questo è proprio un marasciolo Francesco, ma che sarebbe il mondo senza il marasciolo? Dibbi tu o no, come dici? Che cosa è questo? Questo è un alloro selvatico, dell'alloro nebilius e si sente quasi il profumo di cannella Questo è uno dei piatti Enzo Segui? Sì Poi in questo siamo facciati questo bel bouquet che poi, come dire, completa il tutto Allora faccio una raccolta di questo qua Vedi, qua vicino è proprio spettacolare, vero? Vedi, vedi Questa è la famiglia del broccolo È un broccolo selvatico Questa è la brassica senatis Questa è un broccolo selvatico Grazie a tutti.